Ragazzi sentirei il punto è che se non vendiamo biglietti non facciamo soldi dai biglietti, non biglietti non pagano, 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 bigl non devo farlo insieme, ok? Sì, è un po' di pollo. Se siete dipendenti dal gioco delle specifiche generate non venite qua giù. Perché il gioco è un cancro, è inusione a portarsi. Ti prego di seguire il testo, adesso. Non è così, le immagini lo fanno sembrare molto attraente ma potrebbe essere un problema per qualcuno e dico che si deve sapere tutto qui. Ma cos'è, una canna di fulopizzazione? Avanti, ce l'hai battuto. Ho toccato un tasto doloreo.